Pott 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 Rip un bellissimo applauso al nostro signore, Roby Rocca. Dai, facciamo sentire questo applauso. Vai, ora passiamo, veramente. Guarda, solo un aspettino con l'estremo. Dai, Roby. Bacca tutto, Roby, dai, vai sentire, vai. E' sorprendente dei ragazzi, vi voglio, eh. Forza, a ballare tutti i banchi, mani a seco, vai. Sì. Oh, 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 vai, oh. Oh, movimento, ragazzi, vai. Guarda, 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 guard Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.